Vai a cuccia Bobbi, sei un topo di fogna, sarebbe stato uno degli epiteti con i quali il 39enne Diego Mercurio ed il 43enne Massimo Mercurio indagati per atti persecutori e violenza sessuale avrebbero apostrofato una delle tre vittime, componente della famiglia, padre, madre e figlio, che secondo l'accusa sarebbe stata vessata e fatta oggetto di violenze con l'aggravante di aver commesso i fatti ai danni di persone affette da grave ritardo mentale. A subire sarebbe stato soprattutto il figlio che se si rifiutava di edempiere i lavoretti e le commissioni imposte veniva minacciato ed anche percosso, almeno in un episodio stando al racconto della vittima sarebbe stato colpito con un arnese di ferro in testa solo perché aveva chiesto ai suoi presunti aguzzini di trovargli un lavoro. Sono stanco di essere il loro schiavo avrebbe riferito agli agenti di polizia giudiziaria. Anche il padre era costretto a lavorare nell'orto dei due, spesso non ricevendo nulla in cambio, altre volte solo 5 euro o qualche prodotto agricolo. L'episodio di violenza sessuale contestato sarebbe accaduto in aperta campagna nella frazione giarrese di Macchia. Lì sempre il figlio sarebbe stato denudato legato ad un cancello e poi mentre Diego Mercurio riprendeva la scena con il cellulare toccato nelle parti intime da una donna al momento non identificata. Massimo Mercurio invece avrebbe preso un sacchetto di plastica e glielo avrebbe inserito nell'ano nonostante i pianti e le suppliche della vittima. Questo è il quadro esposto dalle tre vittime assistite da uno psicologo al pubblico ministero. Dopo un lungo periodo di vessazioni hanno infatti trovato il coraggio di denunciare tutto.